Facciamo questa dimostrazione, un car tablet dedicato a Jeep Renegade comprato su internet adesso senza che facciamo nomi, siti e cose varie comunque comprato online Cosa succede? Noi al momento li abbiamo finiti stiamo facendo un nuovo accordo con una nuova fabbrica quindi durante l'anno, sapete, io faccio ricerca e sviluppo su alcuni modelli, come in questi due mesi, Jeep Renegade abbiamo finito le scorte e sono senza car tablet alcuni clienti che hanno lasciato l'acconto da due mesi l'hanno capito, stanno aspettando e non ho il prodotto disponibile Cosa succede? Altri ovviamente ognuno può fare quello che vuole può andare online e li compra, vengono qui e li installiamo facciamo il prezzo di installazione, ma guardate la differenza questa è la home, è ok, poi la home uno può piacere e non può piacere ma la differenza dov'è? Su tutto il recupero di setup auto questa macchina ha le luci ambient che sono qui lungo la macchina che il prodotto non le recupera poi abbiamo l'impostazione linee guida mentre siamo per strada e non le recupera il setup, accensione luci, programmazioni luci di cortesia luci anabaglianti, diurne guardate, è tutto finto o bloccato adesso vi facciamo vedere le luci ambient dove c'è il light, l'intensità, tutto quanto ma è tutto spento, non si recupera nulla l'anticollisione per tutte le jeep che hanno l'anticollisione non recupera questo prodotto, l'anticollisione adesso vi facciamo vedere che Android è perché poi su internet mettono foto, è tutto bellissimo recupero, setup, auto parliamo di un quadricor non so se ci dice l'Android Android 8.1 quadricor ovviamente che non è che dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio però quando fate attenzione perché le foto, le caratteristiche sono ingannevoli è fondamentale trovare un fornitore di qualità adesso noi entro qualche settimana arriveranno tutti i jeep Renegade della nuova fabbrica perché sapete che a me piace cambiare e trovare sempre un qualcosa di migliore il cliente, dato che era venuto da noi però voleva avere il prodotto ha deciso di prendere via internet verrà da noi, lo smontiamo monterà il nostro prodotto e questo gli farò la cortesia di fare un'offerta lo regaleremo quasi quindi vediamo, decideremo il prezzo da vendere ok? quindi mi raccomando io rimango a disposizione per tutti i clienti che stanno aspettando il jeep Renegade un pochino di pazienza ho circa 8 clienti che già hanno lasciato l'acconto da un mese a un mese e mezzo a breve arriveranno e un abbraccio forte a tutti grazie 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 Grazie.